quante volte le amiche mi chiamano per dirmi le ricette eccone una con le zucchine che non conoscevo tagliate le affettine molto sottili mettetele in una ciotola con sale, pepe e lasciate riposare per circa 30 minuti aggiungete l'acqua, le cipolle affettine, la farina mescolate e versate direttamente nella leccarda del forno livellando la superficie aggiungete olio e fate cuocere per 30 minuti in forno preriscaldato a 200 gradi si chiama scarpaccia e ognuno ha la sua ricetta alcuni la fanno anche dolce allacciate il grembiule e provatela anche voi